Mangiando caramelle Quando ero incinta, pur essendo architetto, per campare preparavo i condoni edilizi e li presentavo al catasto. Col pancione facevo file di due ore con quel caldo, mangiando caramelle, perché soffrivo tutti gli odori. Poi entravo al catasto e mi facevano subito sedere, perché avevano paura che partorissi lì. Commento I disagi relativi ad una condizione umana fanno parte integrante di quella condizione. Per usare il linguaggio informatico si potrebbe dire che quei disagi fanno parte del pacchetto gestazione. Tutta l'evoluzione umana funziona per pacchetti evolutivi. Tutta l'evoluzione umana funziona per pacchetti evolutivi. Tutta l'evoluzione umana funziona per pacchetti evoluti am�ANNAH. Tutta l'evoluzione umana funziona per pacchetti evoluti o limpia давgewлучare. Tutta l'evoluzione umana. Planta Espina